...di ordinarle e guardate qui dietro di me cosa c'è scritto il Signore Gesù ha detto di essere la via, la verità e la vita, questa è la lista del 10 gennaio e grazie a Dio anche oggi sono venute varie persone a trovarci, hanno ascoltato il messaggio della parola di Dio, è stato letto qui dalla prima epistola di San Pietro ai vari versetti di ricordarsi del Signore, della sofferenza che Lui ha fatto, Lui che era giusto e morto per gli ingiusti e quindi ringraziamo il Signore per quello che Lui ha fatto per noi e preghiamo che il Signore possa darci molte benedizioni e grazie a Dio